Siamo con il vicequestore della Polizia di Stato, Risabetta Narciso, per parlare di questa seconda edizione di Vita da Social. Dottoressa Narciso, cos'è Vita da Social? Una Vita da Social inizia l'anno scorso. Il track itinerante va in giro per tutta l'Italia. Il track brandizzato significa che all'interno abbiamo dei computer allestito per ospitare studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, quindi scuole medie e scuole superiori e parlare con gli studenti, rispondere alle loro domande su tutte quelle che sono le opportunità di internet e anche i rischi che si nascondono e le insidie che ci sono nel web, che navigano nel web. Oggi, l'anno scorso, c'è stato un grande successo. Per questo motivo il Servizio Polizia Postale delle Comunicazioni, d'intesa con il MIUR e con il Garante dei diritti dell'adolescente, ha deciso di replicare questa iniziativa e di andare in giro per l'Italia, inserendo anche nuove tappe. Ieri siamo stati a Giulianova, l'anno scorso abbiamo fatto l'Aquila e proseguirà nel corso dei prossimi anni. Dottoressa, internet è un'opportunità, ma dietro la rete ci sono tanti rischi? Sì, ci sono tanti rischi dietro la rete e le opportunità ci sono, sono tantissime, beh venga internet, ma i ragazzi devono essere consapevoli, cosa difficile nell'età adolescenziale, quindi acquisire la consapevolezza che comunque non sono immuni da cose gravi che possono succedere all'interno di internet. Come Polizia delle Comunicazioni, negli ultimi tempi avete portato avanti diverse operazioni per il contrasto alla pedopornografia, alle truffe via internet, insomma è un settore questo dove c'è molto da lavorare. Sì, il Servizio Polizia Postale delle Comunicazioni ha la competenza esclusiva per il contrasto alla pedopornografia online ed è per questo che uno dei reati che noi cerchiamo di contrastare è questo, il fenomeno c'è, è dilagante nel mondo, non a Pescara in particolare, ma nel mondo, è necessario che i ragazzi sappiano che la realtà virtuale è diversa da quella che si vive ogni giorno, che al di là di una webcam, al di là di una chat, può esserci una persona diversa da quella che ognuno di loro pensa che ci possa essere.